Il primo ottobre scorso il personale della locale divisione Pasi della squadra amministrativa anche con la collaborazione del personale Sian dell'ASPE di Crotone ha effettuato alcuni controlli amministrativi nel comune di Rocca Bernarda. In particolare presso un'attività di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e pasticceria veniva accertato che l'esercizio era sprovvisto di licenza amministrativa. La titolare veniva pertanto invitata a presentarsi presso gli uffici della questura al fine di elevare a suo carico la relativa sanzione amministrativa seguita dall'apposita segnalazione al sindaco di Rocca Bernarda per i provvedimenti di precipua competenza. Il personale del Sian procedeva di impartire la chiusura dell'attività dei locali di produzione vendita per la mancanza della scia sanitaria e dei minimi requisiti di carattere igienico sanitario. Lo stesso personale ha provveduto inoltre ad elevare le relative sanzioni amministrative. Inoltre durante un'attività di appostamento si accertava anche che due coniugi esercitavano l'attività di vendita di prodotti di pasticceria all'interno della propria abitazione. Gli stessi all'atto del controllo da parte degli operatori opponevano resistenza al fine di impedirne l'ingresso. A seguito dei successivi accertamenti emergeva come l'attività svolta dai predetti risultava essere priva di ogni autorizzazione. Così si procedeva ad elevare una sanzione amministrativa seguita dall'apposita segnalazione al sindaco di Rocca Bernarda per i provvedimenti di precipua competenza. I due coniugi venivano inoltre deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.